Musica Iniziamo con Olbia Nova, Suor Luigia Angelo del Fango ad Onorem. La cerimonia si è svolta al Geo Palace. Suor Luigia Leoni è la direttrice della Caritas Diocesana della Gallura e ha ricevuto l'onorificenza ad Onorem Angelo del Fango. La cerimonia si è svolta al Geo Palace, sede naturale della squadra di volley dell'Ermea durante l'incontro casalingo perso contro il Chieri per 3 a 2. Il presidente Gianni Sarti ha consegnato a Suor Luigia una coppa e la maglietta personalizzata della squadra che dopo l'alluvione di due anni fa ha assunto il nome di Angeli del Fango. E proseguiamo con Olbia Notizie. In civiltà e rifiuti abbandonati a Olbia, la polizia locale sanziona tre condomini. Il nucleo ambientale della polizia locale di Olbia ieri mattina ha effettuato un controllo di natura ambientale in via Longhena nei pressi dell'intersezione con viale Aldomoro nella stessa area in cui anche in passato sono state accertate condotte lecite correlate alla violazione delle norme che disciplinano le modalità di conferimento dei rifiuti domestici. Sono stati accertati 11 leciti di cui 8 contestati alla società che amministra un condominio ovvero il condominio in cui risiedono i responsabili delle condotte illecite. Sa sarei notizie. Continuità territoriale e migliaia di posti in più rispetto a quelli previsti per le feste. Saranno 45.900 i posti in più rispetto a quelli previsti dal decreto di imposizione degli oneri di servizio. I posti offerti sulle rotte della continuità territoriale per Roma e Milano nel periodo natalizio e quanto deciso dal comitato paritetico di monitoraggio convocato ieri dall'assessore dei trasporti Massimo Deiana. Le cronache nuoresi e il concorso fotografico sul Redentore sono stati primati gli autori degli scatti migliori. È il popolo di Facebook che ha deciso attraverso i like. Si è svolta nella mattina del 17 novembre nella sala delle rappresentanze del Palazzo Civico alla presenza dell'assessore al turismo e delle attività produttive Marcello Seddone la premiazione del concorso Uno scatto racconta nuoro e il Redentore riservato agli amanti della fotografia e dell'immagine. Professionisti e non è finalizzato alla promozione delle tradizioni più autentiche della nostra città. Voi siete i pionieri di questo nuovo modo di interpretare la nostra città e le nostre tradizioni. Ha concluso l'assessore rivolgendosi ai vincitori. Il concorso ha visto la vittoria di Gabriele Pileri davanti a Stefania Sanna e Stefano Piras. Proseguiamo con Vistanet. Sabattini nasce il consorzio pubblico privato per il treno verde. Sin dall'inizio della quindicesima legislatura è stata attivata una cabina provinciale la quale ha lavorato per predisporre il programma organico di sviluppo territoriale finalizzato ad individuare i principali settori strategici nei quali intervenire nell'immediato. Il progetto, poi condiviso con i sindaci del territorio, è stato presentato alla giunta alla quale ha avviato la fase attuativa del programma. I tavoli tematici sono stati incentrati sui seguenti temi infrastrutture per le aree produttive, viabilità e accessibilità, ambiente, territorio e istruzione, trenino verde, agroalimentare e turismo. Il latv.it Cagliari sequestro beni ad un trafficante di droga. Beni e denaro per 1,2 milioni di euro, tra cui tre appartamenti a Cagliari e Quartuccio, auto e moto, sono stati sequestrati dalla guerra di finanza nell'ambito delle indagini relative all'operazione sul riciclaggio di denaro proveniente dal narcotraffico denominato Shemin de Ferre, che a gennaio aveva già portato al sequestro di beni per 1,6 milioni di euro. E concludiamo con Cagliari Pad, Capellaci aggredita in centro perché portava un crocifisso. E accade nel silenzio complice delle istituzioni che si guardano bene dal solidarizzare con una cittadina italiana e sarda. Succede perché la politica, in particolare il governo e la giunta regionale, fanno le passerelle buoniste ma poi lasciano solo i volontari e forze dell'ordine e i cittadini a fronteggiare un fenomeno epocale. Con questo è tutto, grazie per l'ascolto e buono proseguimento di giornata. Grazie a tutti.